bene cari ragazzi buongiorno come va come state no non sono in campagna sono semplicemente qui all'interno del mio quartiere europa di andrea la passeggiata quotidiana con con piccolo eccolo qui lo vedete ovviamente immancabile l'acquisto quotidiano della gazzetta del mezzogiorno come vedete il cartaccio rimane sempre l'oggetto del desiderio il piacere di sfogliare con l'odore tipico della carta stampata non è non si può sostituire non può essere sostituito con l'edizione online che pure si legge spesso prima ancora di aver fatto colazione quindi l'informazione strumento importantissimo specie in questo periodo come va paradossalmente durante il periodo di qualunque emergenza in questo caso un'emergenza sanitaria un'emergenza nazionale mondiale una pandemia ovviamente di enorme portata di una gravità incredibile dicevo nei momenti intrinsechi proprio di queste emergenze beh gli italiani sanno dare sempre il meglio di sé dobbiamo dirlo dobbiamo riconoscerlo perché è una dote è una caratteristica propria del nostro essere appunto italiani quindi sicuramente ci stiamo comportando bene sicuramente stiamo attuando precauzioni secondo le indicazioni le direttive che di volta in volta vengono impartite dai vari organismi istituzionali stiamo facendo opere di solidarietà estremamente importanti e di grandissimo valore umano questo lo stiamo facendo tutti un po tutti e questo va benissimo va molto bene c'è chi ostenta di più chi lo fa in silenzio chi lo fa mettendosi in mostra chi lo fa a volte esasperando le situazioni però ecco ovviamente non è questo il momento di evidenziare queste storture che poi sono proprie appartengono alle persone quindi ognuno poi dà di sé il giudizio che crede detto questo invece da qualche giorno stiamo ascoltando questa parola magica che si chiama fase 2 questa fase 2 che dovrebbe prevedere una riapertura progressiva delle attività economiche o almeno di alcune attività economiche ed è una fase 2 dove purtroppo comincerà anche quella condizione psicologica che va verso la dimenticanza perché a questa frase a questa fase a questa fase scusate così intensa di compartecipazione quindi di solidarietà di mutualismo di grande compenetrazione nelle difficoltà della gente delle imprese seguirà poi una frase una fase più o meno lunga che porta verso l'amnesia la dimenticanza si dimentica quello che in questo momento si sta vivendo quindi ci saranno alcune attività economiche per esempio che partiranno che ripartiranno ed altre attività che non ripartiranno o forse non ripartiranno perché sarà difficile pensare a come potrebbero ripartire penso ad esempio alla riorganizzazione totale delle aree mercatali quindi non oso immaginare cosa possa accadere ai 20.000 ambulanti di puglia per esempio ai 200.000 ambulanti d'italia o ai 2.200 ambulanti di andrea o ai 4.000 delle province bari bat i quali purtroppo avranno e avranno e avremo perché poi noi come dirigenti di settore saremo chiamati a ad affrontare questa nuova fase diventa davvero difficile pensare a come possano riprendere queste fattispecie di attività su aree pubbliche quindi immaginare i mercati senza la loro caratteristica affluenza che si sviluppa in genere in un paio d'ore di attività commerciale immaginare un mercato senza questa caratteristica è davvero impensabile è impensabile perché viene snaturata proprio l'essenza del lavoro nei mercati quindi questo sarà un enorme problema che dovremo affrontare e che non so in che modo sarà affrontato di questo ce ne occuperemo sicuramente e qui ci sarà bisogno anche dell'efficienza della capacità di quegli amministratori comunali che spesso non sono pronti preparati ad affrontare questo tipo di riqualificazione di organizzazione lo abbiamo visto anche in questo periodo no la cosa più semplice è stata quella di sopprimere i mercati praticamente pochissimi qualche comune soltanto si è preoccupato di garantire addirittura il rispetto della norma governativa quindi di far lavorare le attività del settore alimentare pochissimi gli altri se ne sono lavati le mani diciamo la verità peraltro venendo meno al loro dovere di pubblici amministratori così come si stanno emanando in queste ore queste ordinanze senza che il governo abbia mai dato poteri speciali ai sindaci in materia di commercio e di attività economiche ordinanze tutte illegittime inefficaci però ci sono le competenti autorità che faranno e fanno anche questo tipo di valutazione stavamo invece vi stavo facendo dando qualche spunto di riflessione su come e quale potrebbe essere la ripresa questo è un elemento di riflessione a cui non ci stanno pensando in molti né tantomeno quei sindaci che invece si stanno affannando a rincorrere se stessi per firmare ordinanze per vietare addirittura la mezza giornata di lavoro del settore alimentare il giorno della pasquetta scusate stronzate anche perché così alimenteranno gli assembramenti nel giorno di sabato quando la gente andrà a fare la spesa per due giornate ma evidentemente ormai anche loro sono catapultati in questa frenesia mediatica che ormai li porta a stare praticamente il 98 per cento del loro tempo a spasso con le telecamere al seguito sempre a fare il loro lavoro ovviamente ci mancherebbe altro quindi dicevo al di là di questo io vi invito a una riflessione le conseguenze di questo di questa emergenza conseguenze gravissime ovviamente dal punto di vista economico lo abbiamo detto già sin dall'inizio saranno molto più pesanti per il nostro paese italia perché dico questo perché quali sono i cambiamenti che ci saranno in seguito a questa emergenza facciamo qualche riflessione chi produce materie prime chi produce acciaio o altri tipi di prodotti continuerà a farlo senza problemi ma l'italia che ha basato tutto su caratteristiche proprie della nostra nazione il turismo l'accoglienza il senso dell'accoglienza il valore dell'accoglienza la solidarietà la buona tavola che implica in sé il concetto di stare in molti attorno a una tavola quindi tutti elementi caratteristici e propri della nostra cultura anche della nostra economia messi profondamente in crisi da quella fase successiva all'emergenza in cui tutti sono o appaiono spesso buoni benevoli solidari quando ricomincerà questa fase invece questa fase nuova io credo e purtroppo temo che quelle forme di egoismo di individualismo che erano intrinseche nella nostra comunità nella nostra realtà prima che scoppiasse questa emergenza quindi non fatti specie nuove ma condizioni che già abbiamo ampiamente conosciuto ho il timore che quando la memoria umana dimenticherà il bello della solidarietà di questo momento emergenziale ci si possa invece di nuovo ritrovare di fronte a quegli egoismi che tanti danni hanno creato ad una nazione ricordiamolo che il giorno prima di questa crisi questa crisi sociale economica e sanitaria era in pessime condizioni in condizioni di estremo disagio istituzionale politico economico strutturale infatti io sorrido quando sento alcuni politici tra quelli che girano per le strade accompagnati dai servitori muniti di telecamere quando sento dire torneremo più forti di prima attenzione a dirlo attenzione prendete in giro voi stessi perché prima non eravamo per nulla forti quindi dobbiamo riorganizzare ripensare completamente a un nuovo modo di essere e di stare in un nuovo mondo o in un mondo nuovo che mi sembra ancora più appropriato quindi su queste su questi elementi di riflessione credo che ci si debba soffermare moltissimo perché a volte questo calore derivante dalla situazione emergenziale che stiamo vivendo l'aver ritrovato anche diciamo la verità non è demagogia è la realtà l'aver ritrovato di più il senso del tempo beh sono valori che purtroppo svaniscono da un momento all'altro quando si rimette in moto quel meccanismo malvagio che purtroppo nella mente umana scaturisce la dimenticanza che è un fattore molto presente specie in una cultura quale la nostra è in un mondo dove inevitabilmente il concetto della velocità è un concetto che non si può assolutamente fermare e che riprenderà il sopravvento quindi la lentezza lascerà il posto di nuovo alla frenesia della competizione la solidarietà purtroppo lascerà il posto di nuovo a una competizione tra le persone laddove le regole dei rapporti umani saltano completamente e come al solito nel nuovo mondo o nel mondo nuovo a prevalere saranno purtroppo o potrebbero essere perché il mio augurio ovviamente è che ciò non accada di nuovo gli egoismi le corse individuali e soprattutto molto spesso la distruzione delle persone degli avversari la denigrazione di chi non la pensa nello stesso modo l'isolamento di chi ha il pensiero diverso e critico e che non sia soggetta ai poteri forti di chi non va a braccetto con la politica di chi non antepone gli arrivismi personali a tutto il resto quindi quel mondo nuovo che tutti auspichiamo io spero e per molti versi ne sono convinto che porterà dietro di sé le tracce indelebili di questo momento storico tanto difficile tanto disarmante tanto inatteso e inaspettato quindi queste esperienze mi auguro possano davvero rappresentare il cambiamento che fino ad ora il coronavirus questo elemento invisibile impercettibile è stato in grado di creare dando uno schiaffo morale alla politica quella territoriale ma anche a quella internazionale dando uno schiaffo alle istituzioni e ovviamente a tutta l'umanità che ha avuto bisogno purtroppo che arrivasse un minuscolo invisibile virus con la corona in testa a far capire a tutti che era il momento di cambiare savino montaruri da andrea un abbraccio a tutti a presto